ciao la soluzione che ti propongo oggi è in affitto per abitarci si trova in uno dei palazzi più eleganti di salerno centro proprio a due passi dal lungomare e il teatro giuseppe verdi andiamo che te la faccio scoprire la casa si trova al quarto piano di questo bellissimo palazzo costruito inizio del novecento con l'eleganza del tardo stile liberty la puoi redare con tre camera da letto è l'ideale per una coppia che voglia abitarci e fare una piccola stanza studio per scoprire più informazioni clicca sul link qui sotto ciao ciao